Un enorme oragine si è aperta questa mattina in via Fentina all'altezza del concessionario Ghetti. Secondo le prime informazioni, a generare il crollo del manto stradale sarebbe stata la rottura di una conduttura della rete fognaria. Su segnalazione dell'ufficio strade del comune di Ravenna, sono giunti sul posto i tecnici del pronto intervento di ERA per procedere con le attività propedeutiche alla messa in sicurezza della zona e alla riparazione. Si è provveduto alla predisposizione del cantiere per isolare l'area di intervento e provvedere ai lavori di ripristino, hanno comunicato dagli uffici di ERA e si auspica di terminare l'intervento di risanamento della condotta e ripristinare le normali condizioni di funzionamento entro la giornata di oggi. Sul posto è giunta la polizia municipale per la gestione del traffico a senso alternato, lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.